Io mi chiamo Eleonora Petrella, il mio blog www.itgirl.it si occupa di moda. Condivido ogni giorno outfit, consigli di lifestyle e anche beauty. Siccome oggi mi aspetta una giornata molto lunga, ho scelto un outfit molto comodo. Ho un vestito nero, molto semplice, lungo fino al ginocchio. Ho scelto un paio di sneakers con la zeppa, che sono molto comode e molto cool. Il mio stile è abbastanza semplice, molto femminile e spesso molto romantico. Ho addosso un paio di Celine Audrey, sono i miei preferiti sia per il taglio, che è un taglio molto femminile, quasi a gatta, e il colore nero total black, così posso guardare ovunque senza essere vista. La tensione a Milano è energica, caotica e grintosa, come solo Milano sa essere in Italia. Grazie a tutti!